Quindi è questo che trasporti? Caporele? Eh, sì. Ma almeno qui non si lamenta nessuno. E il capo è un amico. Quindi tu trasporti bare col carro funebre? Autofunebre, per carità. Così si deve dire. Ordini del capo. Va, può andare bene comunque. Senti, io ho bisogno di fare un trasporto e pensavo di farlo col carro... con l'autofunebre. Hai da trasportare un morto? No. Allora, cosa? Erba. Erba? Erba. Medica. Erba? Medica. Un sacco di soldi, Augusto. Senti, Portolini, non ci sto capendo un cazzo. Anche se quando ho cercato di capire era peggio, allora è meglio non capire.